Si chiama Religione ed è una composizione bronzea che raffigura all'infinito il volto del Cristo con la corona di spine. Si tratta della scultura che assieme ai giochi d'acqua con cui interagisce torna a ridare luce alla piazza del palazzo della provincia di Catanzaro. Direi che è un evento fondamentale, in senso che appunto erano anche molti anni che Catanzaro non si arricchiva di un'opera d'arte e soprattutto di un'opera d'arte contemporanea di questo significato. Un'opera d'arte che si inserisce perfettamente all'interno della piazza che ha consentito anche di un riallestimento generale, quindi è stata un'operazione di arte e di architettura nello stesso tempo e quindi sicuramente è un segnale estremamente importante. È importante anche il tipo di realizzazione, nel senso che quest'opera ha la capacità di ripensare ad un tema classico nell'arte antica ma che non è quasi mai stato affrontato dall'arte contemporanea, soprattutto in questa chiave. Enzo Cucchi ha saputo dargli una connotazione totalmente originale, totalmente autonoma rispetto a quella che era l'iconografia precedente. Un grazie ad Enzo Cucchi perché certamente ha creduto in questo progetto già con la mossa che si è tenuta al Marca, ancora di più con questa installazione. Un percorso che ha riguardato la provincia, dalla sala giunta attraverso il maestro Vendini, che ha riguardato ovviamente tante donazioni o mostre all'interno del palazzo e che oggi credo colga il suo significato più importante. Abbiamo credibilità, siamo uno dei centri nel meridione, sicuramente la provincia per eccellenza della contemporaneità ma insieme ad altre due realtà italiane. Auspico che tutte le istituzioni vogliono rendere le piazze, le strade, perché noi luoghi istituzionali sempre più belli attraverso questi investimenti.